Esplorazione notturna di una cappelletta abbandonata. Che bello che è. Guardate l'altare. Oh, com'è scuro. Guardate che bella fresco. Bellissimo. Poi quel blu con tutte le stelline, bellissimo. Grazie. Grazie. Praticamente quella è l'entrata. Questo è il soffitto. Anche qua c'era una fresco ma a quel tempo... è crollato il soffitto, è crollato anche l'affresco. Sì. Qua c'è un altro affresco, vediamo. Bellissimo. Che saliani che ha. Bellissima questa chiesetta. A me piacciono moltissimo le chiesette abbandonate. chiesette, cappellette abbandonate. Hanno quel fascino. Bene, da questa chiesetta abbandonata vi saluto e alla prossima esplorazione. Ciao, ciao.